Allora, siete voi che state aspettando la nuova destinazione? Sì, dove siamo? Sardella, chi è? Sono io. Eccola qua. De Santis? Sono io, sono io. Ehi, dove siamo? Sì, chi è? E va! Chiù! Roma! Vado a Roma! Finalmente potrò vedere il Colosseo, la Torripelle, il Macello! Bergamo! Chi è questo Bergamo? Sì! Sì! No, aspetta, aspetta, ho studiato. Dunque, quel si trova roba di nord. No, io sono stato proprio là. Sì, hai ragione. Fa freddo, come si sta? Eh, fa freddo. Bergamo! E' anche difficile memorizzare. Cioè, fino a quando siamo Milano, Bar, Chirson... Che fai l'abitudine! Bergamo! Sì, c'è Bergamo! Vabbè, va! Paisino, no? Una roba di paesino. E' una città. Non molto grande, però. Non so. Vieni che fa freddino, là. Eh, sì. Bergamo! Già me lo ricordi. Come si sta? Bergamo! Scusi, e quelli che diciamo che vivono a Bergamo? Chi sono? Eh, l'ho studiato, dunque. Sono i Bergamaschi. Bravo, bravo. Bergamaschi. Ma non ci ho fregato. Non ci ho fregato. Perché? E ci vuole qualche berga femmina. Con una torta di laser che fai. E stanno le berga femmine. Oh, Stan! Com'è? Stan? Conosco io due berga femmine buone. Poi dobbiamo dire. Scusi. Questo non le stai? Non parla. Scusi, vedi che Stan? Vabbè, uno studia. Perché a Bergamo stanno le berga masche e le berga femmine. Vabbè, bisogna stare sul posto. I berga... Non, 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 non. Ehi, che provo. Sì, che provo. Ciao, ragazzi. Pocca l'unica. Attenti ai berga trans, eh? Eh sì, a ne stanno. Sì, sì.